Ciao a tutti ragazzi, sono Stefano Poletti, detto anche Rustic, e sono il fondatore della Rustic Solutions. Ho deciso di pubblicare questo video oggi perché ho intenzione di organizzare una vacanza avventura nell'île della Reunion. Nel mese di novembre, e tornerò magari anche con qualcuno di voi in occasione di una bella gara avventura con sto gatto del cazzo. Chiaramente è ancora tutto in forse, dal momento che con la situazione che abbiamo in giro per il mondo a causa del Covid, nulla è ancora sicuro. Cinque motivi per venire all'île della Reunion. Mare, caldo, barriera corallina, giungla, vulcano, oltre a un sentiero bellissimo, molto vario, con un dislivello di oltre 2000 metri. Comunque, prima di guardare il video, ti ricordo che qui sotto, nella descrizione, puoi trovare i miei contatti, e sarò ben felice di aiutarti nel caso in cui tu abbia qualche domanda. Buona visione e a fra pochissimo. Eccoci qua ragazzi, siamo pronti per questo viaggio a l'île della Reunion, ancora un'oretta, e mi imbarcherò in direzione di Parigi, laddove cambierò, aereo, e saliremo su Air Ausfall. Quattro ore d'attesa, questa giornata non passa più. Ciao! Amici della notte, buonasera, siamo al terminal D di Charles de Gaulle, Paris, andiamo verso il C, dove ci sarà finalmente sto benedetto aereo, facciamo ste 12 ore di viaggio, ho bisogno di farmi una dormita, sono devastato, perché stanotte non ho dormito niente per preparare tutte le valigie, perché come al solito sono arrivato in ritardo a farle, quindi ho finito di smontare la bici alle 5 del mattino, impacchettarle tutto, alle 6 del mattino ho finito i panni, poi ho dormito un'oretta e poi sono dovuto andare a Malpensa per prendere il volo per Parigi, ce la faccio più, sono distrutto. Eccoci amici, siamo finalmente arrivati al bungalow dopo un bel viaggio, il tempo non è dei migliori, ma vai che spettacolo! Ho iniziato a mettere a posto un po' la casina e voilà, my Narcobike is ready! Con le nuove grafiche, pronte appositamente per questa gara! Bene, adesso andremo in spiaggia, visto che ci sta prima il dovere e poi il piacere! Quindi insomma vi sto parlando da un posto veramente brutto, questo qua sarà il mio ufficio per 8 giorni e vai che buona! Adesso andiamo a mettere a posto le velo, le biciclette! Adesso si inizia a fare i professionisti ragazzi! Adesso andiamo a faces! ene Grazie a tutti. Amici, buongiorno. Sono le sei del mattino, anzi le sei e mezzo. Sono appena uscito dal campeggio a fare una scambata prima di andare sul vulcano. Questa è l'immensa passeggiata, adesso andiamo al mare. Tra poco parte lo shuttle per salire al vulcano del Le Moido. Musica Ragazzi, finalmente un sogno che si avvera. Sono sul vulcano del Maido, Il De La Réunion. Sono senza parole, scioccato dalla bellezza che c'è qua. Arrivato in questo luogo magico, dopo aver visto i video di Sottoconnola, di Grazia, di non so chi, finalmente ci sono anch'io. Ciao a tutti ragazzi, è martedì, c'è una bella giornata di pioggia. È bello anche così. Vedremo se queste belle rocce già ieri non tenevano. Vedremo oggi come sarà il grip. Musica 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 Ok ragazzi, in questo momento mi trovo in un punto del sentiero in cui mi sembra di essere a Canazzei nelle Alpi e alla fine. Ok ragazzi, vi parlo da San Paul dove ho appena finito la discesa dal vulcano del Maido dove si svolgerà questa domenica la Mega Avalanche di San Paul. Ok ragazzi, oggi è una giornata di relax, stamattina ho dormito e oggi pomeriggio vado al mare. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, benvenuti qui all'Ile della Riunione in occasione della ventesima edizione della Mega Avalanche di San Paul. Siamo qui con cinque ragazzi svizzeri pieni di gas, oggi non abbiamo girato, siamo stati al mare ma abbiamo fatto due giorni di puro ride tra foresta pluviale, vulcano, radici, bagnato, secco e bagnato. Vi auguro una serena serata e buona giornata da Milano. Ok ragazzi, oggi è giovedì mattina, siamo qua sul vulcano del Maido, ci siamo guardati l'alba e niente, andiamo a fare per l'ennesima volta qualche sentiero strafigo qua di questo gasatissimo vulcano. E via! Grazie a tutti. 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 Sono qui al Monte Maido e purtroppo la settimana è quasi terminata e sono stati al momento 5 giorni fantastici, tutti i giorni, anzi 6 giorni oramai. Tutti i giorni in bici, tutti i giorni su questa montagna, tutti i giorni belli, belli, belli. Niente, ci tenevo a salutare tutti da qua oggi e ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi, sabato pomeriggio, in teoria domani ci deve essere la gara, ma non ci sarà. E allora ci facciamo un bel bagnetto qui a lì della... Grazie a tutti. 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 Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tra dieci minuti scenderemo a Milano e via bello del Caso dell'Alto e fra un'oretta di macchina sarò a casa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.